Ancora un parto che finisce in tragedia all'ospedale di Bentivoglio. Morta questa notte una ragazza di 33 anni che dopo aver dato alla luce il bimbo con un cesario è stata stroncata da un arresto cardiaco. La USL chiede una commissione ad hoc per verificare il lavoro dei medici. Mille famiglie non riescono a pagare il mutuo. È il numero drammatico dell'emergenza abitativa a Bologna. L'allarme è stato lanciato dall'assessore alla casa Riccardo Malagoli che attacca il sindacato. Su questo problema è latitante. Tragico incendio nella notte in un appartamento di via larga. Perde la vita un anziano di 92 anni intossicato dal fumo e dalle fiamme, strigionate da una stufetta elettrica. Custionati nel rovo anche la moglie invalida e il figlio della coppia. Se va avanti così potrebbe essere uno dei migliori sindaci della storia di Bologna. Da Monsignor Vecchia arrivano parole d'apprezzamento nei confronti della linea di Merola sul tema della sussidiarietà. Il vescovo ausiliare Merito, ospite stasera della prima puntata di Dedalus. Ancora luce d'ombre per l'economia dell'Emilia Romagna in questa fine del 2011. La crisi insiste, gli stessi analisti faticano a prevedere il futuro. La crescita c'è dappertutto ma modesta, mentre rimane il rischio recessione. Buonasera e benvenuti a ETG in primo piano questa sera alla cronaca con la notizia di un parto che si conclude in tragedia all'ospedale di Bentivoglio. Una ragazza di 33 anni è morta dopo aver dato alla luce il suo bambino con un taglio cesareo. L'Ausl adesso chiede una commissione ad occhi, insomma l'azienda adesso vuole vederci chiaro. Vediamo il servizio di Marco Rossi. Ancora una tragedia all'ospedale di Bentivoglio. Una donna di 33 anni è morta stanotte al termine di un parto cesareo in anestesia generale. Il bambino sta bene ma per la madre subito dopo l'operazione è subentrato improvvisamente un forte rallentamento del battito cardiaco. Le manovre reanimatorie sono proseguite per oltre un'ora ma tutto è stato inutile. Non è la prima volta che accadono casi di questo genere all'interno della struttura e questa volta i vertici della sanità bolognese vogliono vederci chiaro. L'azienda Usli infatti mentre da un lato esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia oggi ha segnalato l'accaduto alla procura e pur non ravvisando elementi di responsabilità da parte dei sanitari intervenuti annuncia la nascita di una commissione ad hoc che verifichi e analizzi il lavoro dei medici dell'ostetricia di Bentivoglio. Il tutto chiedendo consiglio anche all'assessorato regionale alla sanità a cui l'Ausli domanda di indicare nomi di professionisti che possano integrare ed arricchire la commissione. La donna era stata ricoverata ieri per induzione al parto che inizialmente si presentava naturale ma ad un certo punto i medici hanno deciso di ricorrere al cesareo perché si era evidenziata un'anomalia del tracciato tale da far presagire una sofferenza fetale. Il cesareo effettuato in anestesia generale si è concluso con la nascita di un bambino sano e a quel punto che è iniziato il dramma la signora ha manifestato i segni di una grave bradicardia ed è stata sottoposta immediatamente alle necessarie manovre reanimatorie che si sono protratte senza successo per oltre un'ora. Prima di ieri l'ultimo caso sospetto verificatosi a Bentivoglio è quello della neonata nata in stato vegetativo il 6 settembre scorso. La mamma, una donna di 27 anni, aveva anche subito l'asportazione dell'utero. Ancora cronaca, un incendio si è sviluppato la notte scorsa in una palazzina di via larga nei pressi del centro commerciale alla periferia della città. Un uomo è morto, la moglie e il figlio sono rimasti intossicati ed ustionati. Il servizio di Simona Iannessa. Aveva freddo ed aveva deciso di accendere una stufetta in soggiorno per non disturbare la moglie che dormiva in camera da letto ma deve essersi addormentato sul divano ed è successo il fatale imprevisto. Si è innescato un contatto tra l'ossigeno della bombola che l'anziano 92enne usava per respirare e la stufetta elettrica. Le fiamme si sono sviluppate immediatamente. L'uomo, colto nel sonno e non più agile e rapido negli spostamenti data l'età avanzata, è riuscito ad arrivare soltanto in cucina dove però si è accasciato, sopraffatto dal fumo e dalle fiamme. I vigili del fuoco lo hanno trovato riverso a terra e già morto. I soccorsi immediati invece hanno salvato la vita all'anziana moglie di 84 anni e al figlio 64enne che erano rimasti bloccati nelle loro stanze dalle fiamme e dal fumo. I pompieri infatti aiutati dall'autoscala sono riusciti a recuperarli facendoli uscire dalle finestre delle camere. I due che si sono accorti dell'incendio quando ormai era troppo tardi sono stati trasportati al maggiore per l'intossicazione e le ustioni sul corpo entrambi erano comprensibilmente in stato di forte shock. L'incendio è divampato in piena notte intorno alle 3 in uno stabile di via larga alla periferia della città. Immediati soccorsi sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118 e 6 squadre di vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibili l'appartamento ed una sala sovrastante e provveduto ad evacuare la palazzina per ragioni di sicurezza. Soltanto dopo alcune ore i residenti sono potuti rientrare nelle loro case. 15 persone arrestate, 10 ordinanze di custodia cautelare tra tunisini ed albanesi 55 mila euro in contanti e un chilogrammo di eroina. Il bilancio piuttosto consistente di un'indagine della squadra mobile che ha impegnato i poliziotti per circa 10 mesi e ha portato a sgominare un vasto traffico di stupefacenti nel quartiere Navile, in particolare nella zona dei binari lungo via del sostegno. 25 complessivamente le persone coinvolte, tutti stranieri tra tunisini e albanesi che spacciavano eroina di tipo bianca e brown. Le indagini della polizia coordinata dalla procura sono state particolarmente lunghe e difficili anche per la rapidità degli spostamenti degli spacciatori e per il fatto che questi ultimi vivevano in una sorta di eremitaggio forzato in tende e casolari sperduti. I vertici dell'organizzazione, due tunisini, miravano a piazzare l'eroina nel più breve tempo possibile con il progetto di tornare a casa in Tunisia per far vivere nell'agio e nel benessere le rispettive famiglie. Cambiamo pagina, aumentano i bolognesi che non riescono a pagare il mutuo per la casa, un mutuo magari acceso anni fa, prima della crisi economica. Il futuro è ancora più preoccupante. Se ne è parlato oggi in comune a Bologna, vediamo. Più di mille bolognesi non riescono a pagare il mutuo e rischiano di perdere la casa appena acquistata. I numeri ci prospettano un futuro nero, ha detto in mattinata l'assessore comunale alla casa Riccardo Malagoli durante il question time in consiglio. La situazione degli alloggi sta presentando un carico sociale che i comuni da soli non possono sopportare e il dato delle oltre mille famiglie tra Bologna e Interland che vedono svanire la casa perché non sono in grado di sostenere il mutuo, non viene messo nel conto degli sfratti per morosità, ma è forse peggio. Sull'emergenza sfratti c'è stata la prima udienza in tribunale per l'applicazione del protocollo d'intesa che prevede un sussidio da 400 mila euro a fondo perduto a favore degli sfrattati e un altro fondo da 500 mila per il microcredito finanziato dalle fondazioni. Malagoli sottolinea l'assenza dei sindacati. Una disattenzione politica su una cosa a cui stiamo lavorando da luglio, ha detto mi fa arrabbiare che alla prima udienza manchi il primo soggetto che dovrebbe tutelare gli inquilini. Io mi assumo le mie responsabilità, pretendo che anche gli altri lo facciano. Intanto sul fronte delle case ERP in attesa restano 9.525 nuclei e l'assessore annuncia che nel 2011 gli alloggi assegnati saranno 800 a fronte di una media di 480 alloggi negli anni precedenti. Un incremento, ha sottolineato Tomassini del PDL, dovuto al buon lavoro del commissario Cancellieri e coi soldi della regione, ha precisato Malagoli. Infine è già partita la verifica sui redditi per scovare chi tra i richiedenti non ha diritto ad una casa popolare. La sensazione è che nei prossimi mesi si giocherà una partita anche politicamente importantissima sul tema casa. Grazie a tutti. Per la festa del Santo Patrono per San Petronio, martedì scorso, ai ticket sanitari della regione, alla figura del sindaco, Virginio Merola. Sentiamo allora Monsignor Vecchi sul sindaco Merola in questo breve stralcio. Tornando all'omedia del Cardinale, perché ha ricordato l'intervento, con note positive, del rettore dell'Università di Bologna, il rettore, il professor Dionigi. Ha ricordato Vasco Errani, però anche il sindaco di Bologna Merola, mi sembra che nel dire sono in piena sintonia, a parte che penso abbia rischiato politicamente, perché dire da sindaco del sindaco, con l'aria che tira nell'area loro del centro-sinistra, insomma può essere... Il suo ruolo è un ruolo che riguarda tutti. Il sindaco ha capito che non è l'uomo solo al comando. Questa è la sua frase. Questa era con la fascia tricolore, basilica. Esatto, allora lui se questo riesce a tenere buoni, qualche mastino che c'è sempre, tutti i sindaci hanno dovuto masticare Amaro per i loro colleghi, si potrebbe fare la storia, se resiste e fa il sindaco, sarà uno dei sindaci migliori. Sì, lei dice? Sì. Sì? No, le potenzialità ce l'ha. Cioè se questi sono i chiari di luna, cioè se effettivamente prosegue su questi temi? Se effettivamente segue su questi temi e quindi cerca una vera sussidiarietà, che vuol dire dare soldi alle private, le private avranno i soldi che meritano, perché c'è un servizio, ma questo non è il discorso. Il discorso è di vedere quali risorse possiamo tutti mettere in campo, risorse materiali, ma anche spirituali, spirituali, come ha detto Napolitano e come ha detto Errani. Che fa un certo effetto. Che fa un certo effetto. Allora, insomma signori, vogliamo dare consistenza alle parole, perché la parola ha un immaginario forte, la parola deve produrre quello che significa. Parliamo di economia. È stata presentata oggi l'indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2011 sull'industria manifatturiera nella nostra regione, realizzata da Union Camere con la collaborazione di Confindustria e Caris Boccari Romagna. Vediamo allora com'è andata nel servizio di Giuseppe Piloni. Un'economia regionale divisa tra una possibile ripresa e rischio recessione. E quanto emerge dall'indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2011 sull'industria manifatturiera? Tra aprile e giugno 2011 la produzione dell'industria in Emilia Romagna è cresciuta del 3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un'economia in modesta crescita, gli imprenditori hanno messo a frutto quindi la riorganizzazione delle loro imprese e sul campione analizzato il segno più è quasi generalizzato. È un segno più che però tutti ambiremmo di vedere più deciso e invece è riferito ai picchi più bassi della crisi, certamente è incomiabile, ma non ancora si può parlare di ripresa decisa e impetuosa. Il sistema dell'impresa migliorale secondo me non è a rischio, è un sistema solido che ha una buona propensione all'esportazione e oggi l'economia che tira ovviamente è quella fuori dall'Italia, ha una base tecnologica e una capacità di innovazione importante e ha dimostrato anche la capacità di sapersi internazionalizzare in maniera significativa per cui ritengo che come complesso possa avere le carte per superare anche questo momento di difficoltà. Le banche possono ma devono svolgere come hanno svolto un ruolo importante, non dimentichiamo che il primo accordo di moratoria fu appunto sottoscritto, sollecitato da Confindustria, da noi e quindi voglio dire insomma le banche devono continuare a fare il loro mestiere. Vorrei concludere soltanto con una particolarità, guardi che una banca che non fa credito è una banca che è destinata chiaramente a non poter sostenere l'attività, lo deve fare ovviamente in una maniera intelligente, selettiva ma soprattutto meritevole per i più bravi. Un marocchino di 45 anni senza fissa dimora e con diversi precedenti penali tra cui uno per violenza sessuale risalente dieci anni fa è stato arrestato ieri dalla polizia dopo aver inseguito e palpeggiato una donna che si stava recando al lavoro a piedi insieme ad una collega. È successo ieri mattina poco dopo le 8 in via Ferrarese alla periferia di Bologna. È stata proprio la donna, una napoletana di 46 anni residente a Bologna a dare l'allarme. Ha chiamato sconvolta al 113 dicendo di essere stata inseguita da un uomo che l'aveva appena palpeggiata. Quando gli agenti sono arrivati hanno visto due donne al centro della strada e una persona che le rincorreva. L'uomo Saeed Fuadi, marocchino di 45 anni, è stato bloccato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Dopo i recenti episodi di parentopoli alla bolognese, emersi recentemente anche sulla stampa, nel comune di Bologna è in preparazione una norma che prevede la pubblicazione dei gradi di parentela e affinità dei nominati per evitare quindi futuri casi di nepotismo. Vediamo. Sarà più difficile che si verifichi un caso come quello di Ambrogio Dionigi, ex portavoce di Amelia Frascaroli, nonché fidanzato di sua figlia, guarda caso nominato nel CDA dell'Istituzione per l'Inclusione Sociale. Il sindaco appena seppe del rapporto tra Dionigi e la Frascaroli e appena il caso arrivò sui giornali ritirò la nomina del giovane. Ma oggi, dicevamo, è in preparazione una norma antinepotismo che dovrebbe scongiurare episodi come questo. La Commissione Affari Istituzionali del Comune di Bologna ha approvato con consenso bipartisan, DPD, Lega e PDL un ordine del giorno presentato dal leader del Movimento 5 Stelle, Massimo Bugani, che prevede la creazione di un'anagrafe dei nominati e dei rappresentanti del Comune in enti e società. Non sarà un semplice elenco perché oltre a curriculum erediti saranno messi online, a disposizione di tutti, anche gli eventuali rapporti di parentela o affinità fino al terzo grado con eletti a cariche politiche, al secondo grado con dipendenti dello stesso ente o aziende presso cui sono chiamati ad operare, nonché rapporti di lavoro, di parentela o affinità fino al terzo grado con dipendenti, dirigenti, titolari o soci di maggioranza di aziende e fornitrici dell'ente presso cui sono chiamati ad operare. Sempre per aumentare la trasparenza è stato chiesto anche di mettere sul sito del Comune tutti gli incarichi e le consulenze esterne. Lo stesso Bugani commenta ironicamente che si poteva anche fare di più. Sarebbe interessante sapere anche gli amanti, evidente il riferimento al caso del Bono, ma intanto diamo un primo assaggio di trasparenza. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Il nuovo studio con ETG, come sempre prima di ricominciare il telegiornale, rivediamo il sommario. Ancora un parto che finisce in tragedia all'ospedale di Bentivoglio. Morta questa notte è una ragazza di 33 anni che dopo aver dato alla luce il bimbo con un cesario è stata stroncata da un arresto cardiaco. Lausle chiede una commissione ad hoc per verificare il lavoro dei medici. Mille famiglie non riescono a pagare il mutuo e il numero drammatico dell'emergenza abitativa a Bologna. L'allarma è stato lanciato dall'assessore alla casa Riccardo Malagoli che attacca il sindacato. Su questo problema è latitante. Tragico incidente, scusate, incendio nella notte in un appartamento di Via Larga. Perde la vita un anziano di 92 anni intossicato dal fumo e dalle fiamme, sprigionate da una stufetta elettrica, austionati nel rogo anche la moglie invalida e il figlio della coppia. Se va avanti così potrebbe essere uno dei migliori sindaci della storia di Bologna. Da Monsignor Vecchi arrivano parole d'apprezzamento nei confronti della linea di Merola sul tema della sussidiarietà. Il vescovo ausiliare merito ospite stasera nella prima puntata di Dedalus. Ancora luci ed ombre per l'economia dell'Emilia Romagna. In questa fine del 2011 la crisi insiste e gli stessi analisti faticano a prevedere il futuro. La crescita c'è dappertutto ma modesta mentre rimane il rischio recessione. Andiamo avanti. Incontri, convegni, dibattiti. Sono tante le iniziative in occasione della giornata nazionale dei risvegli in corso a Bologna e non solo. Nell'ambito della manifestazione l'attore Alessandro Bergonzoni e lo scrittore Davide Rondoni hanno presentato il libro di Fulvio De Nigris, Sento che ci sei. Era presente anche l'autore. Vediamo. Sento che ci sei è il libro presentato da Fulvio De Nigris nell'ambito delle iniziative per la giornata nazionale dei risvegli in corso oggi. Il libro racconta la perdita e la rinascita, la perdita del figlio Luca dopo un lungo coma e la rinascita attraverso le associazioni, gli amici di Luca e la casa dei risvegli. Sento che ci sei racconta la storia personale che però diventa una storia pubblica, una storia di rieducazione al dolore. In qualche modo una storia che potrebbe essere utile a quanti hanno una persona in coma o a quanti sentono che quella persona c'è e molto spesso hanno ragione del loro sentire. Quindi in qualche modo la mancanza di Luca, che è stata una mancanza molto forte e che poi ha fatto nascere la casa dei risvegli a lui dedicata, che è stata per gli amici di Luca un grande stimolo ad andare avanti, a fare delle cose molto importanti, diventa anche però quella sospensione che c'è quando una persona è in coma e quando sembra che non ci sia molto da fare, mentre invece noi sappiamo che c'è molto da fare. Quel discorso di aiuto alle famiglie, di accompagnamento, di sapere che una persona c'è contro tutte e contro tutti e anche invogliare i medici a raccogliere queste richieste di aiuto, che sono richieste di aiuto, che molte famiglie fanno e che dimostrano poi che molto spesso hanno ragione. A volte il risveglio avviene, a volte il risveglio non c'è ma c'è un percorso formativo, di educazione, di vita comunque e questa secondo me è una cosa bella che va sostenuta. Parliamo adesso di una nuova struttura sanitaria rivolta a chi soffre di disagi mentali che è stata inaugurata a Vergato in provincia di Bologna. I dettagli e le immagini in questo servizio. Corsi di cucina e di cure domestiche della persona, incontri di formazione e inserimento nel lavoro. Sono alcune delle attività che si svolgeranno nel nuovo spazio del Centro Salute Mentale di Vergato appena inaugurato. L'intenzione dell'azienda USL è quella di favorire con questa struttura la massima integrazione sociale degli ospiti attraverso la valorizzazione della loro autonomia. Sono più di 100 i cittadini seguiti dal nuovo Centro di Salute Mentale di Vergato e si alterneranno all'interno dei 120 metri dei nuovi spazi. Tutti seguiranno le varie attività organizzate dagli operatori e mirate all'acquisizione di un'adeguata gestione di sé nella vita quotidiana. L'obiettivo finale è quello di una soddisfacente integrazione nel contesto familiare e in quello sociale con una identità legata anche al contesto lavorativo. A questo scopo saranno compiuti interventi in rete con l'Agenzia Lavoro del Dipartimento Salute Mentale. Nel corso dello scorso anno, segnale infine l'azienda USL, il Centro ha seguito 703 persone. Ci fermiamo un'altra breve pausa pubblicitaria tra poco. Ancora in studio con ETG per parlare di spettacolo. Il Teatro Deun di Bologna alza il sipario della nuova stagione. Questa sera l'apertura del ricco cartellone affidata a Fiori Feriti che racconta il non sempre facile rapporto tra genitori e figli. Un'anticipazione con l'Alessia Salvatori. Veramente è stata la nonna a farvi da padre e da madre. È stata lei a darmi il senso dell'orientamento, ad insegnarmi ad avere sicurezza in me stessa. Il Deun di Bologna inizia la sua stagione in ottobre dal 7 al 23, poi di nuovo lo stesso spettacolo che è Fiori Feriti. Verrà poi riproposto l'anno prossimo, nel 2012, in maggio dal 4 al 20, ma naturalmente ne riparleremo. Allora, Fiori Feriti, Guido. Fiori Feriti è una prima nazionale, uno spettacolo che non si è mai visto prima e questo incuriosisce molto gli spettatori. Devo solo sistemare un paio di cose. Che genere di cose? Cose, affari, un grosso progetto per le mani, ma tu non potresti capire. È un testo che agita e parla del problema padri-figli, quindi un problema ovviamente attualissimo, d'altra parte il testo è ambientato oggi ed è stato scritto oggi. Quindi si parla di questi rapporti in modo divertente, commovente, anche, come posso dire, molto riflessivo e qualche volta anche drammatico. a tre personaggi, i protagonisti sono Aldo Sassi, Federica Tabori e Marcella De Marinis, che interpreta una 19enne scapestrata, di cui voglio pregarvi di ricordare il nome, perché sarà una rivelazione. La regia è la mia. E devo dire mamma che sto tornando a casa. Devo aspettare fuori? No, no, tranquilla, resta pure. Era questo l'ultimo servizio. Prima di chiudere però, come sempre, rivediamo i principali argomenti del nostro telegiornale. Ancora un parto che finisce in tragedia all'ospedale di Bentivoglio. Morta questa notte una ragazza dei 33 anni che, dopo aver dato alla luce il bimbo con un cesareo, è stata stroncata da un arresto cardiaco. L'Ausl chiede una commissione doc per verificare il lavoro dei medici. Mille famiglie non riescono a pagare il mutuo, è il numero drammatico dell'emergenza abitativa a Bologna. L'allarme è stato lanciato dall'assessore alla casa Riccardo Malagoli, che attacca il sindacato. Su questo problema è latitante. Tragico incendio nella notte in un appartamento di Via Larga. Perde la vita un anziano di 92 anni, intossicato dal fumo e dalle fiamme, sprigionate da una stufetta elettrica, austionati nel rogo anche la moglie invalida, il figlio della coppia. Se va avanti, così potrebbe essere uno dei migliori sindaci della nostra storia di Bologna. Da Monsignor Vecchia arrivano parole d'apprezzamento nei confronti della linea di Merola sul tema della sussidiarietà. Il vescovo ausiliare è merito ospite stasera nella prima puntata di Dedalus. Ancora luce d'ombre per l'economia dell'Emilia Romagna in questa fine del 2011. La crisi insiste e gli stessi analisti faticano a prevedere il futuro. La crescita c'è dappertutto ma modesta, mentre rimane il rischio recessione. Questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.